ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia benvenuti allora ragazzi nel scorso video nel nessun scorso video perché non c'è stato uno scorso video c'è stato uno scorso live vi metterò in descrizione comunque condivisione live così volete rivedere chi se l'è perso e abbiamo fatto un casino di cose vi faccio un rassunto in due due secondi e prima c'è un creeper dentro casa e non devo far esplodere tutto che non mi pare caso perfetto allora prima cosa prima cosa tipo what the fuck ho ho ampliato la batteria si ho diminuito la distanza del rendere invece anche perché laggavo un pochettino ma si è sistemato non è un problema quindi poi la rialzo foto cazzo ho ingrandito di poco la batteria e adesso tiene 3.68 tera rf lo sapete quanti sono 3.68 tera rf ragazzi sono 3680 miliardi di rf 3680 miliardi di rf che non si riempiranno mai 3000 miliardi e comunque si ecco questo qui poi come vedete dall'inventario ragazzi ho preso queste qui ragazzi le endere un turbine e ci ho fatto altri due bellissimi generatori e ho anche patchato la generators ragazzi perché la versione vecchia che avevo era buggata e guarda un po hanno cambiato anche le texture del basic power capaci basic ha messo gli altri che cosa dici veramente lol questi sono i basic ci sono anche gli AIG e gli advanced che fico che ci sono con la c'è la recipe sia con la endereo che con la thermal che con la industrial craft no che figata no è un genio raga il bdu bdeu è un caso di genio questi sono i basic ci sono anche no bellissimo fantastico gg worldplay ok comunque oltre a questa cosa molto simpaticissima che ha fatto che wow non mi aspettavo complimenti ha anche fissato il bug che c'era che non andavano bene gli rf adesso queste turbine ragazzi ben 50 turbine di endereo producono 25 mila rft che quindi questo produce 25 questo produce 25 poi qui sotto con lo steam questo produce 25 questo produce 25 allora questi qui adesso sono fermi ragazzi perché c'è problema singa se il singa non sta passando perché non dovrebbe passare il nostro bellissimo mattissimo singa che sta da ste parti qua ok non sta andando avanti perché guardate che è successo è intassato dai substrate ragazzi la lavorazione del del singa genera questo substrate guarda un po che si ammucchia e ora un po è intassato tutto tutto bloccato non va più un cazzo e io quindi adesso devo fare un sistema che porti via tutto sto schifo la soluzione migliore ragazzi penso anche la più ovvia sia trasportare via tutto con un item tutto una roba del genere insomma però la domanda è dove lo porto eh potrebbe essere un problema allora il trash bin non lo metto perché a buttare non esiste proprio metto a buttare la roba guardate proprio non esiste che io butti le cose quindi facciamo una cosa del genere e lo riportiamo indietro a casa tramite il tesseract facilissimo ah però aspetta su tesseract c'ha la frequenza e no ah prendiamo quello del query prendiamo la frequenza query no noi abbiamo la frequenza del query il nostro query sta lavorando eh si ragazzi perché durante live ho messo anche il query quindi metto frequenza query ok oggetti invia e adesso dovrebbero partire degli oggetti in teoria vediamo un po ah no ok devo segnalare l'ignore vediamo un po se partono gli oggetti perfetto ragazzi stanno andando a casa e adesso la produzione di singas dovrebbe ripartire all'istante eccola qui ragazzi partito odio di singa scusate tilene scusate mi sto confondendo abbiate pazienza ragazzi è tilene non è singas vabbè o se ne famo una ragione ecco qui le mie turbine ripartite alla massima potenza grandissime guardate già quanto quanto fuel c'è all'interno qua c'è 12.000 14.000 guardate come sale ragazzi a voi a produrre qui ragazzi la produzione di tilene è veramente alta e produce un sacco di rf poi è fantastica guardate sto consumando 20.000 2.000 bucket a tic e niente 2.000 bucket lo sapete significa vuol dire e per consumare un secchio ci vogliono 500 tic cioè è pochissimo 500 tic sono tipo 25 secondi una roba del genere un cavolo cioè è fantastico ok però basta sto dicendo numeri che non ha senso che voi non vi servono tanto scialli voi buttate lì dentro e quello parte sciallamente guardate poi altra bellissima cosa che ho fatto ragazzi qua sopra guardate un po abbiamo fatto uno spam ecco ecco la lag che arriva eccola ho fatto il più grande spam di wind turbine dell'universo ragazzi guardate quante cazzo sono belle guardate come girano tutte in sincronia e guardatevi se dall'alto sembra che fanno tipo un movimento ondulato guardatelo fanno le onde guardate che figo è troppo bello guardate guardate che figo le onde così si guarda che figata guardate è bellissimo le palette ondulate fanno lavoro ragazzi e tutti questi affari produco anche queste 50.000 rf forse qualcosina di più quindi produco 100.000 rf qui 50.000 rf qui poi big reactor e adesso andiamo a fare la cosa che manca il big reactor la turbina la turbina ragazzi è un po' particolare quindi dobbiamo un po' parlarne insomma farò una specie di spiegazione allora mi spiego la turbina ha vari sistemi di lavorazione l'unica soluzione che posso darvi è costruirla ve la costruisco mentre la costruisco vi spiego ogni parte ovviamente le parti importanti sono sempre le stesse ragazzi come il big reactor ovviamente ci vuole il turbine housing che sarebbe la struttura esterna come il big reactor ovviamente la struttura esterna che sarebbe il reactor casing e c'è il turbine housing la stessa cosa non cambia niente quindi struttura fino a qua ci siamo una cazzata insomma poi ci serve ovviamente il controller quello che ce la fa accendere che però non possiamo ancora craftarlo aspettate poi ci serve il fluid port ovviamente perché serve a far entrare e uscire lo steam no? sapete che va a steam no? giustamente quindi dobbiamo far entrare il nostro steam entrare e uscire e poi ci serve il rotor bearing e forse ce ne servono due non uno in teoria ce ne serve solo uno però quindi il craftavone è uno rotor bearing e ci servono le turbine rotor shaft stupidaggine ragazzi queste ne facciamo quante ne volete e poi e poi con molta calma ci aggiungiamo qualche turbine rotor blade che sarebbero la lama della turbina che vabbè questa è tutta roba extra che va topo prima facciamo la struttura poi pensiamo al resto insomma oh e non dimentichiamo il pezzo più importante raga dove esce l'energia? è il power port se no come attacchiamo i nostri cavi dell'energia? eh gli RF da dove escono scusate allora ragazzi dato che il mio big reactor è qui ovviamente la turbina gliela metterei molto volentieri accanto anzi sicuramente accanto quindi facciamo una bella turbina bella turbina bellissima ma se faccio qualche pezzo di vetro così si vede all'interno turbine glass un po' di vetro eh come lo vedete? io lo vedo bene il vetro si 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 invetriamola un po' la nostra turbina facciamola bella decorata allora considerate il fatto che il big reactor e la turbina non hanno nulla in comune nulla ragazzi quindi potete tranquillamente metterli appiccicati non ci saranno disturbi fra di loro e si attaccheranno tranquillamente vedete stanno vicini senza problemi proprio scialli, tralli senza... non si cacano a vicenda allora io adesso la turbina la sto facendo a piacere a differenza del big reactor non c'è una forma perfetta con cui farla tantissima gente la fa eh... 5x5 come sto facendo io adesso ma... un po' mi dispiace a me mi spiego perché e... la turbina in base alla dimensione ovviamente cambia l'efficienza con il big reactor io adesso la sto facendo 3x3 voi direte come 3x3? 5x5? sì, è 5x5 la struttura ma all'interno lo spazio è da 3 se lo spazio interno fosse da 5 cambierebbe tutto e di brutto anche quindi per adesso questa la faccio così vedete? 3x3 dentro la prossima la farò 5x5 dentro che sarà una cosa molto diversa particolare vuol direte perché 4x4 non puoi? no può essere solo dispara e capite questa cosa può essere solo dispara non si scappa quindi può essere 3x3 5x5 7x7 9x9 eccetera mai para per nessun motivo mai poi farò vedere per un semplice motivo perché c'è una turbina al centro quindi deve essere dispara sennò come metti il centro? qual è il centro della turbina? la turbina storta piegata? parliamo no? oh raga forse i blocchi bastano giusti giusti oh vi dico proprio fermate vi dico proprio fermate ma chi c'era ieri nel live? c'era qualcuno di voi che sta guardando il video adesso nel live? spero di sì ragazzi è stato un bel live a me sinceramente mi è piaciuto stasera potessi che ne esce fuori un altro non lo so non ve lo assicuro guardate su facebook ve lo spammo su facebook o vi faccio un video preannuncio sul canale se magari se dovesse essere un live ve lo avviso ve preavviso prima ecco qui la nostra turbina ragazzi 5x5x5 3x3 interno e adesso andiamo ad assemblare la parte interna però ci manca un oggetto e lo sapete qual è l'oggetto in questione lo sapete qual è l'enderium vuol dire che cazzo c'entra l'enderium ragazzi ci servono gli enderium bloc perché la turbina va avanti con gli enderium bloc vuol direte perché? allora ci sono tanti tipi di blocchi che si possono usare il migliore ovviamente è l'enderium io non utilizzerò altro bloc all'infuori di te hai capito? ho fatto il giuramento eeeh quello lì insomma comunque dicevo in base a quanti blocchi di enderium si mettono cambia il consumo in steam della turbina scusate bene queste parole quindi più blocchi mettete più la turbina consuma è importante questa cosa eh quindi adesso sto facendo due strati quindi il consumo è altissimo adesso andiamo a mettere dei bellissimi turbine shaft guardatevi ragazzi al centro questa sarebbe la barra centrale dove la turbina ruota figata eh e qui in punta ci va il nostro macchina che dove cazzo dove l'ho messo? dov'è? non l'ho fatto? il rotor bearing dov'è? ha raga non ho fatto il rotor bearing sono babbo adesso sapete che ci serve? lo sapete che ci serve oltre al rotor bearing? il controller che non ho più fatto come si fa il controller? no stupidaggine ragazzi basta fare il sieniter processor eccolo qui questo bellissimo macchinario chiamato sieniter processor ragazzi va avanti ad acqua quindi serve una fonte d'acqua fonte d'acqua potrebbe essere difficile rimediare dell'acqua qui in zona potrei mettere un export qui però i canali non bastano sì c'è un canale di meno posso mettere un export o prendere dei bucket insomma perfetto ragazzi posso buttare l'acqua direttamente all'interno sì sto cianite potrei trasformare la cianite in plutonio vuol dire fallo fallo non ho fatto un cazzo sinceramente metto la cianite voi direte eh ma può essere riutilizzato ho fatto un cazzo ragazzi c'è me ne sbatto proprio altamente di quello che puoi farci con sto coso perché non mi serve sì ma se magari buttassi energia all'interno mi faresti in favore siamo tutti più contenti e la serie continua eh che ne dici idiota ok ragazzi guardate un po' ho messo all'interno di questo cianite di processor cianite e acqua vedete perché le hai messe insieme mettendoli insieme ragazzi la cianite verrà lavorata diventerà plutonium il plutonium è quello che ci serve per fare sto craft è stupidaggine due ce ne servono uno non basta due due ecco qui ragazzi due plutonium wingot e adesso andiamo a craftare il nostro turbine controller tada è la turbina è pronta per l'utilizzo avete mai fatto la turbina voi la sapevate usare la sapevate come funzionava come andava come non andava la sapevate che consumo in base a quanti blocchi di andare o mettete eh ma più che altro vabbè poi ve lo farò vedere poi ci sono tante cose che vi do ancora a far vedere allora andiamo subito a mettere il nostro controller possiamo metterlo dove vogliamo specifico questa frase possiamo metterlo dove vogliamo e mettiamo il fluid import e output vicino ai nostri enderium block che così fa figo poi andiamo a mettere in cima il nostro turbine rotor bearing qui aspetta sì certo ma ah ah mi dicono che c'è andato ok dicevo eh dirt ecco qui ragazzi a cosa serve il turbine rotor bearing sarebbe la punta della turbina e adesso mettiamo le palette beh guardate figata ragazzi stiamo creando la nostra turbina effettivamente mettendo paletta per paletta ogni paletta è un pezzo della turbina è importantissimo che non può mancare manca una paletta la turbina non va e cercate di metterle insomma più ne mettete effettivamente non c'è molta differenza aggiungerne serve solo aumentare la resistenza che fanno quindi è relativo il discorso mettetene tante mettetene poco non cambia cazzo comunque mettetele ovviamente sempre frequenti al massimo così guardate e se lasciate due pezzettini di tipo dello spazio fra la turbina e il coso finale non cambia niente fotocazzi l'importante è che ci siano delle palette che la facciano girare cioè se tipo qui guardate mettete così e lasciate il vuoto parte lo stesso o perlomeno prima era così e poi si è cambiato non lo so così parte lo stesso adesso mettiamo il controller mettiamo housing e vetro e la turbina è completata ragazzi turbina pronta all'utilizzo e vediamo un po' le statistiche tadaan ecco vabbè guarda che interfaccia complicata è un casino ragazzi è un casino e io ragazzi vi saluto qui ci vediamo nel prossimo video che sarà domani purtroppo mi spiace che sto passando così il video ma ci farò altro e ci vediamo domani dove vi spiegherò effettivamente come attivarla come infilare uscire liquidi e cosare e faremo vedere altre cose che ho fatto off camera allora ragazzi questo video è tutto se vado live ci vediamo in live grazie per tutti i mi piacciono grazie per ancora seguire la serie mi fa piacere che c'è tanta gente a cui piace e continuerò la serie perché c'è tanta sta gente grazie a tutti ciao ragazzi prossimo video